Avvertenza Queste schede sono la seconda parte di una serie precedente tradotta anche in video. Si prega quindi di visionare prima tale materiale per capire meglio le considerazioni che qui vengono proposte. Grazie. Un prete a pota. Ditelo con i cartelli. 2. Riflessioni, schematiche sugli anni vergogliosi della Chiesa Cattolica. La resistenza. Papa Bergoglio e il suo cerchio magico stanno spaccando sempre più l'opinione pubblica, sia a livello sociale che a livello ecclesiale. A livello sociale perché sta fomentando in maniera imprudente e irritante il fenomeno dell'immigrazione clandestina e perché sta appoggiando in maniera ostinata e anacronistica governi e movimenti di ispirazione marxista. A livello ecclesiale perché si sta distaccando sempre più dai pronunciamenti degli altri papi, sposando tesi già da loro condannate e perché sta stravolgendo tutti gli aspetti della vita della Chiesa, falsandone profondamente la natura e la missione. Papa Bergoglio sta demolendo la Chiesa Cattolica come il terremoto ha distrutto la Basilica di Norcia. Alcuni esempi recenti di duplice spaccatura? Un silenzio assordante. Il 22 gennaio 2019 lo Stato di New York ha approvato una legge che consente di praticare l'aborto fino al nono mese di gravidanza e Papa Bergoglio con la Pontificia Accademia per la Vita hanno ignorato completamente il fatto e non hanno preso posizione. Un tracollo ideologico. Il 4 febbraio 2019 Papa Bergoglio ha firmato con il grande imam dei sunniti una dichiarazione congiunta più politica che religiosa, gettando così le basi per una religione mondiale, confusa e indefinita, fondata non su verità rivelata ma sulla fratellanza umana. Ora, un gran numero di fedeli si domanda se la Pontificia Accademia per la Vita adesso pensa solo ai migranti e alla raccolta differenziata dei rifiuti, perché non cambia nome? Abbiamo assistito a una solenne dichiarazione di intenti con i sunniti e se l'altra metà dei musulmani non fosse del tutto d'accordo? Davanti a questa condizione drammatica della Chiesa e del Papato, le questioni da affrontare sono due. Uno, la diagnosi. Bisogna dare un nome esatto alla malattia che è in corso e il nome esatto è alto tradimento di certa gerarchia. Due, la terapia. Bisogna capire bene come opporsi alla suddetta malattia, ma qui purtroppo c'è una grande discordanza di pareri. Se la reazione del popolo santo di Dio non sarà unitaria, ragionata e decisa, il grande male continuerà il suo corso. Se uno arriva a rendersi conto dell'alto tradimento che certa gerarchia sta consumando ai danni della Chiesa Cattolica, le possibili reazioni sono le seguenti. Uno, la sottomissione servile. È quella praticata da tutti coloro che per interesse o per paura non prendono posizione e seguono la corrente principale. Due, la ribellione scismatica. È quella praticata da frange più esagitate che negano ogni valore alla figura di Bergoglio e alla messa in comunione con lui. Tre, la resistenza responsabile. È quella praticata da tutti coloro che vogliono opporsi al degrado neomodernista, ma senza compromettere l'unità della Chiesa. L'unica soluzione costruttiva è la terza. Per avere una resistenza responsabile è necessario innanzitutto che non si neghi la legittimità di Papa Bergoglio. L'esistenza simultanea di due Papi legittimi non si fonda, certo, sulle parole che Gesù ha indirizzato al singolare, al Principe degli Apostoli, tu sei Pietro, Matteo 16, 18, ma sulla natura innovativa delle dimissioni di Benedetto XVI. Benedetto XVI, infatti, ha rinunciato al suo ministero petrino non per completo, ma solo nella dimensione del suo esercizio attivo, fare il Papa, mentre ha conservato per sé la sua essenza più profonda in una dimensione più propriamente contemplativa, essere Papa. Su questo fatto si potrà discutere fino alla fine del mondo, perché si tratta di una rinuncia unica nel suo genere, che non ha precedenti nella storia della Chiesa. E per questo fatto unico, Papa Bergoglio è legittimo. Per avere una resistenza responsabile è necessario inoltre che si conoscano le cause per le quali Papa Bergoglio potrebbe decadere prima del tempo. E le cause sono soltanto tre. La prima, che si dimostri in modo ufficiale qualche grave irregolarità nelle dimissioni di Benedetto XVI o nel conclave del 2013. Secondo, che i cardinali, pochi o molti che siano, lo dichiarino formalmente apostata o eretico o scismatico, come prevede il diritto canonico. Terzo, o che lui stesso decida di farsi da parte per un motivo o per un altro, prima del suo passaggio naturale nel regno dei più. Dal basso quindi non è possibile far altro che prendere e far prendere coscienza della situazione. La Chiesa Cattolica ha delle regole del gioco e queste regole vanno rispettate sempre, sia con il sole che con la pioggia. Per avere una resistenza responsabile è necessaria, infine, che si distingua molto chiaramente tra le tre funzioni ministeriali del Vescovo di Roma. Infatti, se è giusto e doveroso denunciare i continui errori che egli ci propina con la sua funzione di insegnamento, non è assolutamente possibile, almeno per ora, scardinare dal basso gli atti della sua funzione di governo, né invalidare gli atti della sua funzione di santificazione. Solamente i cardinali, come già detto, potrebbero con atto formale e ufficiale accusare il Papa di apostasia o eresia o scisma e applicargli la scomunica automatica che è già prevista dal diritto canonico. Tutte le altre soluzioni, tipo accuse e ribellioni varie, anche se motivate, non producono effetti giuridici. Quando si deve assaltare una fortezza bisogna prima individuare il suo punto più debole. E il punto più debole di Papa Bergoglio è precisamente il suo insegnamento o magistero. Se si pretende invece di attaccarlo su altri fonti, come la legittimità della sua elezione o del suo governo, si va a cozzare contro un muro di gomma. Partendo poi dal suo insegnamento, si può anche discutere sulla opportunità o meno di alcune sue scelte di governo, come quella della disegnazione di alcuni collaboratori per incarichi particolarmente importanti, o di alcune sue omissioni di governo, come quella della copertura di alcuni scandali, specie in materia economica e sessuale. La difesa della verità tutta intera è un diritto e un dovere per tutti i battezzati, anche al cospetto di Pietro. In estrema sintesi, davanti a questa situazione, cosa bisogna fare come chierici e come laici? In linea di massima occorre difendere sempre e comunque la verità della fede, trasmesse fino a noi dal vero magistero della Chiesa. Astenersi sempre e comunque da qualsiasi comportamento che sia chiaramente contrario a tale magistero. Rimanere sempre e comunque all'interno del recinto ufficiale della Chiesa Cattolica, evitando scismi dichiarati. Realizzare all'occorrenza una resistenza interna e sotterranea, tipo quella dei primi cristiani verso l'impero romano. Se poi la situazione dovesse precipitare, bisognerà attenersi alle indicazioni di qualche cardinale più illuminato e coraggioso, capace di indicare al piccolo resto il cammino da seguire, oppure appellarsi alla legge suprema della Chiesa, che è la salus animarum, e operare di conseguenza. Un esempio concreto di resistenza sotterranea è quella che ci viene offerto da tutti quei personaggi, prelati, alti e bassi, sacerdoti e religiosi, uomini di cultura, giornalisti e semplici fedeli, i quali scrivono, sì, sulla questione Bergoglio, i numerosi e prestigiosi blog cattolici, ma coperti dall'anonimato. Questa è la prova provata della totale perdita di fiducia nei confronti di un padre comune nella fede che non viene più percepito come tale da molti dei suoi figli. Per quanto ci è dato di conoscere e di ricordare, ma vi è mai stata una situazione come questa nella Chiesa? Perché il leader Massimo e molti dei suoi gerarchi hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non ascoltano? Un esempio concreto di riferimento alle indicazioni di un cardinale è quello che si può avere fin da ora seguendo le dichiarazioni periodiche del cardinale Müller. Essendo stato per cinque anni prefetto della congregazione per la dottrina della fede, egli è perfettamente in grado di evidenziare ogni possibile errore di dottrina e di morale. Le interviste che rilascia di tanto in tanto a diversi e qualificati giornalisti di tutto il mondo sono un concentrato di vera sapienza cattolica. Approfittiamone il più possibile. Chiesa cattolica in codice rosso Alcuni consigli pratici per i ministri sacri Fare costante riferimento al catechismo della Chiesa cattolica promulgato da Giovanni Paolo II nel 1992 Aiutare i fedeli laici a prendere coscienza dell'attuale situazione in modo che possano maturare un proprio giudizio critico Valorizzare nella predicazione, nella catechesi e nella preghiera pubblica e privata la figura nascosta di Benedetto XVI Manifestare sempre le proprie perplessità o il proprio dissenso in modo aperto e coraggioso ragionato e responsabile Inviare all'occorrenza la propria testimonianza a qualche blog cattolico che svolge opera di resistenza e di denuncia Con fratelli sacerdoti e religiosi la misura ormai è colma usciamo allo scoperto e onoriamo la nostra missione di padri e pastori del popolo santo, di Dio Chiesa cattolica in codice rosso Altri consigli pratici per i fedeli laici Prendere le distanze da persone o ambienti che ragionano o agiscono in sintonia con lo spirito della falsa Chiesa Saper discernere tra falsi e veri profeti Matteo capitolo 7, 15-20 Che si presentano sulla scena ecclesiale per guidare i fedeli Ricercare nella propria zona qualche prete meno protestante degli altri e farvi riferimento per la propria vita di fede Aggregarsi con altri fratelli e sorelle che desiderano conservare un autentico spirito cattolico e camminare insieme con loro Confidare nella preghiera Affidare tutto al Signore e alla Vergine Santa ed essere sicuri della vittoria finale della vera Chiesa Fratelli e alla Vergine Santa Fratelli e sorelle La calma è la virtù dei forti Coscienti, uniti e motivati affrontiamo fiduciosi la grande battaglia spirituale che già è in atto Il vero problema non è se i pastori hanno oppure no l'odore delle pecore Il vero problema è che oggi le pecore non sopportano più il tanfo di certi pastori O pecorelle del Signore siate brave Tappatevi il naso se necessario ma non abbandonate il vero ovile quello della Chiesa una santa cattolica apostolica e romana Se qualcuno in seguito ne vorrà uscire che siano quelli che di questi tempi spingono il gregge verso il baratro Ecco, io verrò presto dice il Signore e porterò con me il mio salario per rendere a ciascuno secondo le sue opere Io sono l'alfa e l'omega il primo e l'ultimo il principio e la fine Apocalisse 22, 12, 13 Ciò significa che solo lui dirà l'ultima parola sul gravissimo sbandamento attuale della Chiesa cattolica e della sua gerarchia E sapere questo ci basta e ci avanza Ecco, io verrò presto Maranatà Vieni Signore Gesù Vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria Vieni Signore Gesù Vieni Signore Gesù Grazie a tutti Grazie a tutti.